Abbiamo incontrato Cristo nella nostra vita, io penso che se dovessimo ascoltare la vita di tutte noi e come siamo arrivate a Cristo, sicuramente tutte noi siamo passate attraverso una fase in cui abbiamo vissuto un travaglio nella nostra anima, per arrivare poi alla luce. E una cosa che forse ci si dimentica di dire è che quando una madre sta per partorire ed entra in travaglio, c'è una sofferenza non solo nel corpo della madre ma c'è una sofferenza anche nel bambino perché si deve incanalare per poter nascere. E questa è una cosa che ci deve portare a pensare che quando noi parliamo alle persone di Gesù, quando portiamo il messaggio dell'Evangelo alle persone, questa parola che noi mandiamo, di cui vi dicevo ieri, che acqua e spirito, spermatozoo e ovulo si incontrano per dare alla luce, inizia una vita ma inizia anche un travaglio. E quindi ci vuole sensibilità e attenzione. Non vi è mai capitato che quando magari parlate a qualcuno del Signore sembra che abbia capito, siete lì che dite caspita sta arrivando e poi improvvisamente si tira indietro. E poi improvvisamente cambia idea e poi improvvisamente arriva qualcuno o qualcosa che cerca di distoglierlo dalla verità. Quello è il travaglio della nuova nascita. Quello è proprio il travaglio della nuova nascita. Che vivi tu che stai per darlo alla luce perché lo stai evangelizzando, ma che anche la persona sta vivendo. Perché prima che si incanali nella strada giusta per entrare e poi uscire alla luce, c'è un travaglio. Ma poi arrivano le spinte. E quelle spinte sono incontrollabili. Anche se quando sei lì che stai partorendo ti dicono, no adesso non spingere, ma io non ce la faccio più. No, devi spingere. E lì veramente si manifesta tutta la... Voi due, voi uomini non svenite. No, ma qualcuno di voi hanno già assistito a dei party. Voi giovani non vi spaventate, però. Cercate di essere dei papà equilibrati, mi raccomando. Quando ci sono le spinte, lì è dura. Non ce la puoi fare a trattenere. Ma proprio quando arriva il momento più doloroso, quello è il momento di spingere. Quando arriva il momento più doloroso, quello è il momento di spingere. Ed è vero così anche nella nostra vita. Quando arrivano dei momenti dolorosi, non dobbiamo rimanere nel nostro brodo, ma dobbiamo spingere. Dobbiamo dare le spinte per far uscire, non il dolore, perché non abbiamo paura del dolore, ma per far nascere qualcosa di nuovo, per rinascere, per portare di nuovo alla luce. Ora, stamattina mi sono messa questa collana che mi hanno regalato le mie meravigliose assistenti e tutte le leader di settore. grazie per questo dono, che io non sapevo neanche dell'esistenza di questa cosa. Non so se riuscite a sentirla. Sentite? Ho scaperto che questa collana, nel mondo lo dicono che è un portafortuna per le donne incinta. Ma invece io lo voglio collegare alle cose spirituali, perché si chiama collana chiama angeli. E in teoria dicono che se tu ti metti questa collana chiama angeli, quando cammina la mamma la collana, questo ciondolo batte sulla pancia e il bambino sente il tintinio. E questo tintinio lo rilassa. E poi dicono anche che siccome la mamma si muove di giorno, così il bambino nel grembo impara a distinguere il giorno dalla notte. Sarà vero, non sarà vero, non lo so. Però mi è piaciuta questa allegoria con questo termine, collana chiama angeli. Perché quando noi siamo incinta di qualcosa, di un sogno, di una visione, quando abbiamo una speranza, non dobbiamo mai dimenticarci che abbiamo a nostra disposizione, da parte di Dio, gli angeli che ci aiutano. Gli angeli che ci aiutano. Prima il pastore Giulio ha detto, ha parlato del musical, del fatto che quando abbiamo parlato di questa cosa ci hanno dato tutti dei pazzi, a me e al pastore Ivan, ma no, ma qua, ma là, ma voi non siete in grado, ma non siete capaci. Ma noi abbiamo riempito un teatro per due sere con 600 persone di cui la maggior parte erano non credenti. Quindi, e lo scopo era stato fatto con questo obiettivo. 700, mi corregge il maestro, 700. Perché l'obiettivo di questo, il musical era stato proprio quello di incoraggiare i credenti a portare almeno una persona non credente. Non importava di che chiesa fossero, l'importante è che poi ognuno se li portasse, se li tenesse vicino nelle proprie chiese. Quindi, noi abbiamo a disposizione gli angeli, non dobbiamo dimenticarcelo. Collana chiama angeli, che dicono che vengono a proteggere il bambino, che vengono, ma noi sappiamo che chi protegge il bambino è il Signore. Ma gli angeli sono spiriti ministratori dati in aiuto a coloro che devono ereditare la salvezza. non dimentichiamoci della presenza degli angeli nella nostra vita. Perché ci sono, noi non li vediamo, ma ci sono. Ci sono. Mi ricordo a una conferenza delle donne in chiesa, te lo ricordi Patrizia? Io ho un ricordo vago, ma c'era stata una sorella, mi pare una di loro, le nostre sorelle, Carolina, che io ero particolarmente fragile in quel periodo perché purtroppo avevo avuto un altro lutto importante e sono arrivata quella mattina alla conferenza guidando la mia macchina in lacrime e dovevamo iniziare la conferenza e lei ha avuto la visione che di fianco c'era una persona gigantesca dentro la sala di culto. Lei l'ha visto, questo si chiama discernimento degli spiriti, non solo degli spiriti maligni. Hanno fatto la foto. È uscito sulla fotografia. Quindi, quella volta mi si sono aperti gli occhi sulle realtà spirituali. Quando noi anche organizziamo cose di questo genere, voi pensate che siamo qua noi, ma io sono sicura che ci sono gli angeli. E quando noi diventiamo collaboratori di Dio e per mettere mano alle cose del regno di Dio, Dio ci manda i suoi angeli come aiutanti. Mica siamo soli a fare il lavoro. Non siamo soli. E vi ricordate quando Gesù si è trovato nel Gezzemani che era solo, era angosciato, era agli estremi delle sue forze e proprio lì Dio gli ha mandato degli angeli a servirlo. E questa è una realtà spirituale di cui noi forse ci dimentichiamo perché in certi ambienti hanno abusato di questa cosa degli angeli facendoci passare quasi gli angeli più importanti di Dio. No, no. Gli angeli sono spiriti ministratori mandati a servire coloro che devono ereditare la salvezza. Attenzione, coloro che devono ereditare anche verso i non credenti perché non hanno ancora ereditato la salvezza. è importante questo. Chissà quante volte mi ricordo un'altra testimonianza di Elisa Elisa è qua eccola là che stava portando a scuola i suoi bambini e a un certo punto ricordami un attimo Elisa vieni qua un momento vieni, vieni vieni dai un applauso Elisa. mia hermanita di mio corazzone del Salvador allora stavi portando a scuola i tuoi bambini cosa era successo? Perché eravamo nella strada il bambino era dietro io non ho visto che lui è andato all'altra all'altra corsia e mentre arrivava una macchina veloce e io dove ho visto che perché io ho visto che il bambino era investito in quel momento ho chiuso gli occhi e gli ho detto Dio mio figlio e poi in quel momento ho visto che mio figlio era le mani e poi lui mi dice mamma guarda è una mano mi ha preso e mi ha spinto da te e poi quello che guidava la macchina ha detto ma io non ho frenato ti ricordi? questa cosa me la sono ricordata perché lui ha sentito che qualcosa che qualcuno ha messo le mani e in quel momento lo ha tenuto forte ma si ha sentito anche l'impatto si è sentito proprio che qualcuno le ha messo la mano e con l'altra ha spinto il bambino quando io ho aperto gli occhi mio figlio era con me io in quel momento io ho solo gridato gli ho detto Dio mio figlio perché aveva appena perso mia mamma quindi anch'io era un momento molto duro e quindi Dio è stato gloria a Dio grazie quindi spiritualmente parlando ricordatevi sempre che quando noi parliamo a qualcuno di Gesù quella persona entra in un travaglio è per quello che ha dei combattimenti ma poi arrivano le spinte e lì non si può più fare a meno di nascere si nasce ma quando si nasce bisogna trovare qualcuno che assista con gentilezza che prenda quel bambino e lo accolga nella famiglia di Dio e per tutto il tempo che siamo gravide di un sogno di una visione o di una persona che ci sta per cui stiamo pregando che ci sta a cuore ricordatevi che sulla vostra pancia c'è questa collana che ama angeli e che non siete sole a fare il lavoro che non siamo soli noi pastori ministri uomini e donne di Dio non siamo da soli a fare il lavoro non siamo da soli a volte ci sentiamo stanchi ci sentiamo pesantiti pensiamo che stiamo lottando contro i mulini a vento che noi remiamo e siamo sempre sempre allo stesso punto ma Dio ha delle schiere di angeli che manda per noi ad aiutarci a fare il lavoro e se ne siamo coscienti e se ne siamo coscienti e ce lo ricordiamo è importante e poi c'è quella scrittura e concludo con questo che dice che dobbiamo esercitare l'ospitalità perché non sapete che se esercitato l'ospitalità potreste ospitare degli angeli potreste ospitare degli angeli quindi quando noi ospitiamo qualcuno nella nostra vita quando accogliamo qualcuno nella nostra vita può anche darsi che quella persona non sia un angelo ma sia una persona ma quello che scateniamo nel mondo celeste è che per lo sforzo il sacrificio anche di accogliere o di servire qualcuno Dio ci manda angeli ad aiutarci quindi care donne compratevi tutte una bella collana a chiama angeli così vi ricordate che non siete sole amè Dio vi benedica